no non sono scomparso i più attenti di voi chi mi segue da più tempo si sarà accorto che circa un mese che non pubblico video questo non perché ho abbandonato la piattaforma semplicemente perché ho dovuto prendermi una pausa forzata causa lavoro pausa forzata che era sì in programma ma non non era in programma ossia pensavo di riuscire comunque a mantenere fede a tutti i miei impegni ma si vede che così non è stato questo breve video serve a darvi questo piccolo aggiornamento a dirvi che sono tornato che esisto ancora che nessuno mi ha ancora investito con un'auto che l'ufficio ancora in piedi quindi che continuiamo a lavorare spero che l'audio si senta bene poi capirete in un video successivo il motivo di quello che sto dicendo partiamo un attimo dei piccoli aggiornamenti piccoli aggiornamenti che sono circa un paio di mesi fa vi ho invitato a venire a trovare il mio blog lucauletta.com slash blog ma ho fatto un leggero cambiamento il blog è fermo da circa un mese non ho aggiornato contenuti questo perché sta arrivando un'altra novità sto spostando tutto da un'altra parte tra i commenti tanti di voi ora vi vorrei leggere ho un mese di commenti arretrati quindi dovete perdonarvi vi risponderò a tutti quanti ve lo giuro non so se addirittura se riusciremo a fare un video Q&A proviamo vediamo un pochino che genere di domande sono detto ciò tutti i contenuti video che avete visto e tutti i contenuti avete visto su quel blog li sto spostando come anche un'altra cosa in tantissimi mi continuate a chiedere tutorial se ci avete fatto caso i tutorial non erano più presenti da un po di tempo sul canale non erano presenti sotto la forma proprio del tutorial in sé ma erano presenti sotto forma di tips and trick quindi quando parliamo di una tecnica specifico di quant'altro per tutti quanti gli appassionati sappiate che stanno per tornare ma non qui non posso darvi non voglio darvi ancora delle informazioni più precise perché sto ancora costruendo il tutto riprenderanno quindi tutorial fatti da me ma su un'altra piattaforma che è la stessa dove troverete poi il blog ci arriveremo con calma ma per ora sappiate che vi penso tutti quanti vi sto ascoltando a tutti ho preso appunti su qualsiasi tipo di tutorial e corso che vogliate e sottolineo la parola corso perché arriveranno tante belle sì insomma per ora non ho altro da dirvi era soltanto un video per aggiornare sul fatto che non sono scomparso ma esisto e addirittura questa è una nota che dimenticavo nelle mie idee malsane ci sarebbe quella di cambiare la pubblicazione di video sabato rimarrebbe costante alle 13 come è stato fino ad ora e di aggiungere un'altra pubblicazione perché i video che adesso andremo che vi porterò che vi mostrerò saranno leggermente diversi un pochino più brevi un pochino più sintetici un pochino più semplici da realizzare la mia idea sarebbe portarvene uno al giorno ma mi rendo conto che con il mio lavoro è impossibile stamattina sono venuto in ufficio per registrare questo video e un altro paio arrivo non c'è connessione internet dovevo aprire il software dopo l'avevo raggiornato per fare per fare l'abbinamento della chiave digitale e non andava quindi sono usando un programma di fortuna per registrare l'audio la luce non c'è ho dimenticato i fari non funziona la presa insomma è complesso non è proprio così semplice perché sono le ora sono le nove del mattino ma sono arrivato qui alle sette e mezza volendo registrare tanto perché poi devo mettermi a lavorare quindi non me ne vogliate se non sono stato presente lo sarò cercherò di esserlo un pochino in più chi è nuovo di voi può iscriversi al canale se ancora non l'ha fatto così da rimanere aggiornati specialmente per tutte le novità che arriveranno e non posso dire di più ci vediamo domenica prossima settimana prossima un nuovo video ma devo dire quindi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao